Polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale impegnati nelle scorse ore a Bassano in una serie di interventi per prevenire e reprimere i fenomeni di degrado urbano. Complessivamente sono stati controllati 36 autoveicoli, 91 persone e 5 esercizi pubblici. Il bilancio è di 5 fogli di via obbligatorie dal comune di Bassano nei confronti di due cittadine italiane e tre cittadini stranieri. Le prime per reati di truffa, guida in stato di ebrezza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. I cittadini stranieri invece per reati contro la persona, contro il patrimonio, armi, evasione e stupefacenti. Due invece i ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino algerino di 72 anni e di un marocchino di anni 36 che durante i controlli sono risultati irregolari in Italia.